good morning si qui sono praticamente quasi ora di pranzo cioè no ora di pranzo è l'1 a 10 quindi è già pomeriggio mister master maestro o semplicemente o semplicemente david hinch it's may 7 2022 and it's saturday 7 my favorite one of my favorite numbers in naples 69 and 8 5 and around 20 celsius and this means that it's that they really 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 soft like in this day in this period però è in tal brutta atmosfera quindi sembra che fa leggermente più freddo slightly cold as i guardo i video tutti i don't know if i do it perché ho già dei video arretrati da caricare sia del video pensiero of tuesday and the video tutto of yesterday quindi potrebbero valere questi due video appunto pensieri come video pensiero di oggi quindi occhio eye open if you whatever is a rinterested anyway asian viola gesta si frond window is out there window mitico il window ormai già it's already afternoon asian si di moment ago and i don't know if you notice and you just see cioè se si è visto bene but it's in this moment it's totally grey cloudy and absolutely we don't have those beautiful blue skies and good sunshine anche ieri la tendenza cioè nel senso è stata una bella giornata però la mattina poi dopo si è annuvolato e quindi credo che speriamo che domani migliorerà ma non lo so vedremo se c'è una tendenza di questi giorni per cui appunto auguriamoci per il meglio direttamente domani per cui se edizia su frond the mythical frond the sadal mythical wind with the white curtain the pink flowers the green roller shooter not visible but also ma se fosse sempre lì from the mythical wind with the orange red the blue green water curtain and it's a green roller shooter behind me on the top not visible in fact in the shot and finally from the mythical keyboard amari gx 640 ipg 625 e great day ii molto people follow the channel and the reports si un saluto davvero a tutti and also iopio live great breakfast ve la farò tra poco lo so che è un po' tardi ma mi sono sviato poco fa la farò tra poco il mio stomaco bronchiola non so se lo sentite spero anche il vostro soprattutto spero vi consigliate con la colazione se il tempo dovesse essere brutto come è qui alle vostre parti as you and the video toots or tomorrow